Sedicenti incaricati dell'Inps, tecnici dell'Enel, dell'Italgas e ispettori della Banca d'Italia che chiedono di controllare banconote, valori, buoni postali e poi estranei che entrano in casa chiedendo aiuto per qualcosa e intanto tengono occupata la vittima mentre qualcuno di nascosto entra e li deruba. Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai truffatori nei confronti degli anziani. Il comando provinciale dei Carabinieri di Chieti stila un decalogo per difendersi dai malintenzionati annunciando una regola che vale sempre. Non bisogna aprire la porta di casa agli sconosciuti, non abbiamo il dovere giuridico di far entrare delle persone a casa nostra per qualsivoglia motivo, solo forze dell'ordine in uniforme possono entrare all'interno delle nostre abitazioni. Non far entrare nessuno in casa, mai. Nessuno ha il dovere di farlo, neanche se si qualificano come forze dell'ordine. È possibile infatti soddisfare la richiesta della sedicente forza dell'ordine in caserma. È molto difficile reperire un'uniforme completa da poliziotto, da finanziere o da carabiniere. Laddove riescano a reperire questi uniformi si dedicano a crimini ben più gravi di quelli di cui stiamo parlando. Probabilmente qualcuno in borghese potrebbe chiedere di entrare in casa. In quel caso, ripeto quello che già ho detto, cioè non si ha il dovere giuridico di far entrare delle persone che anche mostrando tesserini falsi, anche facendo tutto quello che vogliono, però comunque non siano vestiti in uniforme. 72 casi registrati in provincia di Chieti. Il più comune è il furto in casa adoperato con l'utilizzo di un complice. Inoltre, le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare la presenza di persone sospette o di automobili che compiono strane permanenze o giri ripetuti nella stessa zona. I soggetti più o meno sono sempre gli stessi, è una categoria a rischio, sono quella degli anziani che avendo del tempo a disposizione, magari avendo voglia di colloquiare con delle persone, aprono più spesso la porta degli altri, anzi aprono quasi sempre la porta di casa agli sconosciuti.